Roma-Torino finita 1-0 dallo stadio olimpico ieri sera, è uscita da Live Reaction, se volete andatela a vedere vi lascio qua sotto il link in descrizione, la trovate sul canale e invece ora parliamo diciamo nel day after dei vari aspetti della partita, tematiche della formazione e comunque degli indisponibili, infortunati e robe varie iniziamo subito perché c'è un po' di cui parlare, la Roma vince contro la seconda miglior difesa perché fino a ieri era la seconda miglior difesa, ancora lo è se non sbaglio secondo o terza ma comunque vuol dire che la solidità in difesa ancora c'è, il Torino è una squadra che non è che ci abbia messo così tanto in difficoltà da davanti infatti i numeri diciamo d'attacco del Toro non è che siano eclatanti, però ha una gran difesa e un'identità presa da Juric che l'anno scorso ha fatto veramente bene al Verona e quest'anno sta provando a costruire un bel percorso con il Torino che è sicuramente una squadra più facile da allenare più che altro è vero che il Verona sta facendo ancora bene ma gli interpreti del Torino comunque sono veramente forti i certi interpreti se vogliamo in difesa Bremer che ieri ha fatto un'altra gran partita, Belotti che comunque se si riscatta è un grande attaccante, nulla da dire poi ieri si è infortunato, mi dispiace per la Nazionale, si è infortunato Pellegrini, infatti ora ne parliamo e comunque ci sono anche altri giocatori di qualità come Singo, cioè il giocatore il Torino li ha infatti ieri comunque non è che la Roma abbia dominato, non ha dominato il Torino, però comunque non abbiamo diciamo fatto una delle nostre migliori prestazioni se vogliamo anzi è una delle peggiori prestazioni da inizio anno però è una vittoria murignana importante per la classifica, per i tre punti ovviamente e per il morale perché ora abbiamo partite consecutive tra campionato e conference league che comunque ci riduceranno le forze perché comunque la rosa corta ce l'abbiamo noi, la rosa corta con gente positiva, con infortuni, veramente siamo messi male 1-0 ieri che arriva al 32esimo con un gol di Tammy Abram che sembra essersi sbloccato perché viene dalla doppietta in conference il gol ieri sera e il gol nel campionato con la partita stregata contro il Benesse ma comunque ha segnato e ha fatto anche un assist in quell'occasione 1-0, mamma mia, stop a seguire, veramente un grande stop di Tammy Abram, poi calcio a giro, batte Milinkovie Sergei, Milinkovie Savic no, quello della Lazio ma del Torino importa e fa l'1-0 per la Roma assist diciamo di Mkhitaryan assist di Mkhitaryan che sta tornando quello che era, quello che era l'anno scorso perché se vogliamo iniziano, Mkhitaryan aveva segnato con la Fiorentina, se non erro poi si era, come dire, si era messa a dormire cioè per gran parte di queste partite e ora si sta, diciamo, risvegliando da due o tre partite, no? che sta facendo delle ottime prestazioni, quelle che ci aveva abituato a fare nello scorso campionato poi diciamo che ci sono stati degli episodi, no? degli episodi che hanno comportato sei minuti di recupera addirittura nel primo tempo veramente tantissimi perché solamente quattro minuti sono stati quelli per la VAR dal trentaseiesimo un presunto calcio di rigore per la Roma su fallo ai danni di Escharawi si era incaricato già di battere, no? Tammy Abram, era uscito Pellegrini, lo sappiamo per l'infortunio che starà fuori un mese e questa è una delle grandi note negative della partita di ieri, no? e comunque, quindi poi, rigore, sono stati praticamente quattro minuti alla VAR a sentire, no? All'arbitro, no? alla fine non ce l'hanno assegnato per un fuorigioco millimetrico col tacco di Tammy Abram però comunque c'era, cioè c'era era millimetrico sicuramente però il fuorigioco c'era, nulla da dire e quindi rigore annullato alla Roma, no? poi diciamo che è stato un primo tempo con un possesso palla per il Torino prevalentemente però non un possesso palla che dici chissà quanti tiri hanno fatto nella partita mi ricordo due tiri, no? del Torino una bella parata di Rui Patresi o niente da dire e poi cioè io fatico a trovare altre situazioni da gol per il Torino se non una parata di di Paolo eh sì, ciao Core oh ma che Paolo Lopez di Rui Patresio quindi neanche la Roma, eh cioè io l'ho detto la Roma per me è stato uno dei più brutti è stata una delle più brutte prestazioni di questo campionato che però abbiamo vinto questo è l'importante infatti l'ha detto anche Murini è meglio vincere queste partite che vincere 4-0 e diciamo che a noi ci fa soffrire no? a noi ci fa soffrire Murini ovviamente ma anche a me anche io sono felice di queste gare combattute, no? col sangue per la maglia, no? combattere in campo da veri gladiatori per esempio Zaniolo che ieri ha fatto una partita assontuosa ha guadagnato un sacco di falli oltre a quelli che non gli sono stati fischiati contro perché minimo 6 falli non fischiati contro è stato imbarazzante ieri anche l'arbitraggio, no? però veramente assurdo ha preso minimo 6 falli alcuni si è buttato magari 5 minimo 5 veramente assurdo ieri eh i migliori in campo per me sono stati Abram gol sponde veramente ha aiutato la squadra Abram ormai sta prendendo confidenza in questa squadra amore per la Roma cantalino in campo questo è un giocatore che deve essere un esempio e il Sharawi e il Sharawi perché è sacrificato in un ruolo più arretrato in seguito a molte assenze, no? e comunque per me andrebbe anche bene questo modulo per la stagione anche se poi quando rientreranno Spinazzola, Calafiori, Vigna non c'è storia si torna a 4, no? credo credo si sacrifica guadagna il presunto calcio di rigore non dato ma comunque ha fatto una grande azione cioè Sharawi anche ieri è stato bravo e poi Mkhitaryan è tornato Mkhitaryan nel ruolo suo da trequartista è tornato l'Armeno è tornato Mkhitaryan che anche ieri fa una gran partita l'assist e comunque molti recuperi difensivi come Abram e Zaniolo e Sharawi sacrificati però veramente bravo Mkhitaryan voglio dargli fiducia perché comunque sta facendo delle partite abbastanza abbastanza sufficienti sicuramente sufficienti sicuramente ieri si merita almeno il 6 e mezzo quindi come dire cioè la Roma ora guardiamo un attimo la classifica perché la Roma 35 punti il Napoli vediamo le prime 8 perché sono interessanti ora si è fatta interessante la classifica perché il Napoli è 35 ha vinto lo sapete ieri allo speciale se così vogliamo di Diego Armando Maradona veramente applausi per la coreografia e tutto quello fatto ieri allo stadio Diego Armando Maradona il Milan perde cade e perde tra uno in casa contro il Sassuolo e quindi rimane a 32 con l'Inter che gli soffia da dietro a 31 che sta guadagnando un po' i punti no l'Inter che poi dobbiamo affrontare tra una settimana praticamente l'Atalanta 28 e a meno 3 la Roma 25 quindi la Roma si è avvicinata alla zona Champions anche se l'Atalanta ha vinto con la Juventus quindi sei comunque a 3 punti di differenza però ti sei anontanato la Juventus di 4 perché ora ecco Fiorentina Juventus Lazio e Bologna 21 Bologna sorpresa la prossima sarà proprio il Bologna l'avversario della Roma che sarà molto tosta perché sta facendo un gran campionato fuori casa tra l'altro giocheremo e poi Juve e Lazio che stanno a 21 la Juve è caduta in casa contro l'Atalanta e la Lazio ha strameritato la sconfitta del 4 a 0 contro il Napoli veramente Napoli strepitoso no ieri poi passiamo un attimo quindi stiamo vicino alla zona Champions questo è il nostro obiettivo quest'anno speriamo di arrivarci non sarà facile ma lotteremo le note positive della vittoria no allora note positive e negative cioè non della partita in generale no la vittoria ovviamente ma la prima cosa perché ha comportato la vittoria è il rientro di Smalling il rientro di Smalling che in difesa ieri è stato insuperabile per tutta la partita con Trastere vinti ma lo sappiamo quanto è alto no la sua potenza fisica ma mai superato in velocità cioè veramente è un giocatore straordinario solo che deve trovare la costanza che l'anno scorso non ha avuto l'anno prima si è stato uno dei migliori però l'anno scorso non ha avuto ha giocato una partita si 4 no una si eppure quest'anno non è la stessa cosa speriamo che ritrovi la quadra no che ritrovi la sua costanza fisica che non trova ormai da due anni no poi ovviamente la vittoria e i tre punti ciò che hanno comportato Smalling che è comunque il resto della squadra no e a tranne di Avarà che per me veramente guarda è inguardabile sto giocatore speriamo che rientrano nel primo possibile Cristian Tevillard che sono risultati ancora positivi nel tampone dell'altro ieri purtroppo speriamo che almeno con l'Inter riuscimano ad avere il nostro centrocampo eh poi la terza cosa regà la quarta quella che è la sconfitta di Lazio Juve Milan e Fiorentina hai guadagnato punti su queste quattro squadre tre sulla Juve e vai a più quattro tre sulla Lazio e vai a più quattro dal Milan che comunque non è che devi fare la corsa al Milan no perché la Milan nota per un'altra cosa per lo scudetto no però è comunque meglio stare a meno punti possibili per ridurre la classifica no e la Fiorentina che quest'anno è una grande squadra però ha perso contro l'Empoli che comunque sta lì però attenzione all'Empoli però vabbè comunque la Fiorentina ha perso poi ovviamente l'altro l'altro l'altra nota positiva è i meno tre punti dalla Champions League che sono veramente importanti ora si decideranno in queste partite no l'andamento della Roma perché ora abbiamo due big match in poche partite abbiamo il Bologna poi l'Inter poi la Spezia la Samp l'Atalanta mi pare quindi veramente un tour de force se così vogliamo andiamo alle negative Pellegrini l'infortunio che lo terrà fuori per tre o addirittura quattro settimane quindi saltando veramente un sacco di partite perché ora sono tutte ravvicinate prima della sosta di Natale comunque dei primi di gennaio e poi la prestazione che se così vogliamo è negativa la prestazione quindi è una nota negativa ma vincere così ci mettere la firma sempre però se giochi così sempre non vinci sempre ma c'è da dire anche questa prestazione è stata voluta da Mourinho non si sa perché comunque Mourinho ha detto che va bene vincere così è meglio di vincere 4-0 lottando no è stato volutamente lasciato il possesso al Torino in parte sì in parte no per me perché comunque il Torino ha i suoi meriti in questa circostanza però anche i suoi non ha non ha tirato praticamente in porta cioè la Roma ha concesso poco speriamo che la linea difensiva sia sempre questa veramente speriamo bene quindi cioè veramente veramente va bene così 3-1-4-2 per me confermato no il 3-1-4-2 forse il 3-4-2-1 no così metti più più il centrocampo forto ovviamente vabbè per questo video è tutto noi ci vediamo alla prossima se siete arrivati a questo punto veramente grandi e noi ci vediamo ad un prossimo video volete avere la reaction andate a vedere dallo Stato Olimpico seguitemi i suoi social Instagram TikTok lasciate like e iscrivetevi al canale se l'ho detto non lo so vabbè noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao